Monta l'attesa per la gara d'andata di Coppa Italia. Questa sera con l'inizio previsto per l'evento a Presti, stracittadina tra Tretico Gela e Gela. Un appuntamento da non perdere. In palio ci sono punti pesanti e se vogliamo c'è in palio anche la leadership del calcio locale. Si affrontano due squadre che finora nel campionato di promozione hanno ottenuto punti sonanti. Se la ride la Tretico Gela al comando con 13 punti, frutto di 4 vittorie di un pareggio, ma anche i biancazzurri non sono messi male e ambiscono al raggiungimento delle zone alte. Entrambe le formazioni si presentano all'appuntamento di questa sera, forti delle ultime vittorie in campionato. I gelorossi domenica hanno vinto 1-0 a Santa Croce, i gelesi hanno battuto in casa il Città di Catania per 4-2. E poi ricordiamo, è importante andare avanti in Coppa Italia, che vince il trofeo infatti a Proda di diritto al campionato di eccellenza. La Coppa Italia è un traguardo prestigiosissimo e molto importante quest'anno perché come ben detto con la vittoria della Coppa Italia si può salire direttamente in eccellenza. E poi con la Coppa Italia sono molto meno partite, quindi su 10 partite già si può ambire al salto di categoria. Poi giochiamo con l'Atletico, quindi le motivazioni sono ancora più forti. Per il portiere dal Gela si tratta di un ritorno al passato. Camiolo infatti ha indossato per 4 stagioni la maglia dell'Atletico Gela. Quattro anni sono stato all'Atletico, sono stati bei momenti. Abbiamo, diciamo che siamo cresciuti lì, io e molti miei compagni. E oggi ritorniamo a giocare contro l'Atletico e è un credito ritorno. Ma cosa temi della squadra Gela Lossa? È in questo momento capolista del campionato di produzione. L'Atletico in questo momento è la squadra più in forma del campionato, dimostra il primo posto in classifica, poi sono una buona squadra e ben allenata. E questa sera si attende anche il pubblico delle grandi occasioni, perché voglio dire, un derby non capita ogni giorno. Speriamo di sì che il pubblico di Gela risponda in maniera numerosa, ma sono sicuro che lo farà come altre volte. Ma stai scalpitando per giocare questa sera? Eh certo, è normale, spero di sì, però le scelte le fa il mister. Poi c'è anche questa regola dell'under che mette in difficoltà il mister e poi le decisioni le prenderà lui. Appuntamento dunque questa sera alle 20 al Presti. Il costo del biglietto d'ingresso è di 5 euro, 3 euro si pagherà in curva.